Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento OnuSpec, in questa versione comprensiva di tutti i titoli usciti in ambientazione, mondo ellenico e storia classica e antica, gioco della Draco Ideas, che ringrazio immensamente di cuore per avermi fornito questa copia per la recensione, e un gioco che ci riporta nelle battaglie storiche e nei periodi più famosi dell'epoca ellenica e classica. Andremo a vedere ad esempio gli Spartani combattere contro l'esercito di re Serze, quindi durante la battaglia delle Termopili o del Golfo di Salamina. Vedremo dall'altra parte ad esempio le battaglie di Alessandro Magno contro il re Dario II, quindi sempre il periodo dell'antica Grecia, oppure gli stessi greci, come detto poc'anzi, nella battaglia con Temistocle contro l'impero di Serze nel Golfo di Salamina, o le guerre puniche. Quindi ci sono anche all'interno le guerre puniche dei Romani, o per chi magari avesse visto da poco la serie televisiva a capolavoro che io adoro, Spartacus, c'è anche la ribellione di Spartacus contro appunto le truppe romane per la libertà dei gladiatori, insomma, che erano insieme a lui. Ed è un gioco veramente molto interessante perché è un vero e proprio wargame, questo non è da confondersi con un gioco da tavolo, il classico wargame, questo è un wargame solo senza le miniature. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Onus Pack, perché Pack? Perché è la versione comprensiva di tutti i titoli usciti in ambientazione classica, a parte Traianos. Traianos è un altro titolo che è uscito successivamente, è un gioco di battaglie campali ed è un vero e proprio wargame a cura di Draco Elias. È un gioco dove noi avremo a rappresentare le truppe sul campo delle carte, tra l'altro disegnate anche molto bene, come potete vedere a schermo ora, un po' di carte, mostrate così randomicamente, laddove ci sono sopra i disegni delle truppe. Quindi abbiamo truppe persiane, truppe macedoni, truppe spartane, truppe greche, come vi ho detto gladiatori, truppe romane dell'impero romano, quindi abbiamo veramente di tutto per fare tutte le battaglie anche più famose che abbiamo viste nei film o letto nei libri magari di Valerio Massimo Manfredi per girarne uno e avremo anche la Lega Panellenica nella battaglia poi appunto contro l'invasore persiano. E le carte, come vedete, sono riprodotte bene e ciascuna truppa è rappresentata da un disegno con i soldati visti dall'alto. Ovviamente ciascuna carta rappresenta, nel caso dell'Antica Roma, una centuria di legionari romani, quindi dovete interpretare ogni carta come se fossero 100 uomini, non soltanto quei pochi disegnati sopra, perché queste sono battaglie su larga scala, magari mettete 5 carte in campo ma realmente sarebbero 500 uomini, più magari la cavalleria e le macchine d'assedio. Ciascuna carta, come anche la carta del generale che vedrete a breve, ha sopra tutte quante descritte le caratteristiche più in basso a destra dei simbolini di colore verde, blu o arancione che vanno a identificare le abilità speciali che ci hanno, abilità speciali che si attivano solo in un dato momento, magari quando caricati o quando caricano, e abilità passive, che invece quelle sono sempre attive, sono proprie dell'unità. Abbiamo due valori di attacco, che sono il valore per colpire e il valore per ferire, ora poi a breve ho una piccola parentesi, e la vita ovviamente dell'unità, la disciplina, e anche abbiamo il valore per schivare il colpo e il valore d'armatura. È molto questo gioco Warhammer Fantasy, una delle prime edizioni, perché addirittura è un gioco dove si fa il tiro per ferire, cioè il tiro per colpire, il tiro per ferire, il tiro di rotta dell'unità, se sono riuscito a colpirti devo rifare un altro tiro per vedere se ti passo l'armatura, e in più non si può misurare niente. A differenza del nuovo Warhammer 40.000, per fare un esempio, Star Wars Legion, o anche semplicemente Warhammer Rage of Sigma, qui non si misura nulla. Prima dichiari quello che vuoi fare, e dopo misuri. Quindi voglio caricare l'unità di pezzeteri che ho davanti, con la falange oplita, ad esempio, carico, dichiaro la carica, ci arrivo con la misurazione, no. Se non ci arrivi non puoi, ovviamente, caricare la truppa. Se no sarebbe troppo facile, è un gioco fortemente strategico. Quando si va a fare un combattimento, c'è un mazzo di carta evento, che i giocatori tra l'altro hanno anche in mano, e ciascuna carta evento, come potete vedere a schermo, è divisa in una parte superiore e una inferiore. La parte superiore è una cosa attiva, che potrebbe dare un bonus alla vostra truppa, magari, se c'è il simbolo della spada quando attacca, se c'è il simbolo dello scudo quando difende, se c'è il simbolo del movimento, insomma, tanto è rappresentato tutto bene dei simboli, è molto descrittiva e esplicativa. Ma allo stesso tempo, la parte sotto, invece, è una parte evento. Quindi, quando si va a fare un qualsiasi tipo di combattimento, una carica, un corpo a corpo, un tiro con gli arcieri, si pesca sempre dal mazzo comune, una carta evento, si mette in campo e si applica quello che c'è scritto sia applicabile. Perché magari è durante una fase di tiro e c'è scritto applicatela solo durante il corpo a corpo. In quel caso la scartate. Poi i giocatori a vicenda possono giocare uno, l'attaccante, o scusate, il difensore, una carta evento e l'attaccante a sua volta un'altra carta evento. Quindi le carte evento sono belline, perché sono un po' come gli stratagemmi di Warhammer, Leviathan o Age of Sigmar. Sono un po' come gli stratagemmi, o anche, mi viene in mente, Heroes of Normandy, che vanno magari a cambiare un po' la battaglia. Perché magari sei lì con un'unità che fa un po' schifo, passatemi i termini, caricato dalla cavalleria, fai, oddio, oddio, ora me la sfonda, ora me la distrugge, giri la carta evento giusta e magari quella truppa da un momento all'altro prende più due al tiro armatura, oppure più due a schivare, perché si sono quarazzati con gli scudi e resistano alla carica. Quindi c'è anche quel discorso un po' di imprevisti che a me onestamente piace. Quando si va a fare un combattimento, si muovono le truppe sempre davanti al massimo della velocità che hanno. Quindi se hanno un movimento di due, si muovono di dieci, perché ogni movimento sul righellino è di cinque pollici. Quindi si muoveranno, ad esempio, se hanno uno di movimento di cinque, se hanno due di movimento di dieci e così via. Potrebbero anche avere un movimento di, magari, che li porterebbe a fare metà movimento e quindi invece di cinque, due e mezzo, nel caso retrocedano. Però l'unità si muovono sempre in linea retta, perché in un esercito è difficile vedere una truppa, tutte informazioni che si muovono di lato, vi immaginate il caos che ci sarebbe per muovere una truppa di lato, oppure semplicemente andare in diagonale. Lo possono fare, però si muoveranno a metà del movimento perché saranno più impacciati e più lenti. Un'unità si muove sempre dritta. Quando si arriva in corpo a corpo, con i valori che ci sono sulle carte, si va a fare il tiro e tira tutto l'attaccante, ma il difensore, tutto l'attaccante, si fa il tiro per colpire, sono riusciti a superare il loro livello di dodge? Ok. Si fa, entrano due colpi, di questi due colpi si tirano dadi, tra l'altro i dadi sono bellissimi, si fa il tiro per ferire, sono riusciti a passare il loro livello di armatura? Sì, ah, non dovete eguagliare o superare, lo dovete superare. Quindi se una truppa ha a livello armatura 5, voi dovete fare 6 o più per colpirla, non 5 o più. Dovete sempre superare il valore che c'è scritto sulla carta. Se li ferite, mettete dei token ferita sulla carta e loro ovviamente contraattaccheranno. Alla fine del combattimento, la truppa che avrà subito, sì, la truppa, lo schieramento che avrà subito più danni, dovrà fare un check sul morale. Se lo fallisce diventa broken, e ovviamente avrà dei malus, se lo fallisce un'altra volta in futuro e già precedentemente erano broken, scappano. Quindi è molto semplice, cioè un giocatore di Warhammer non ci trova niente di strano ed è bellino che con delle freccette si possono estendere le formazioni per caricare e magari riuscire a circondare il nemico con la stessa carica, prenderlo sul fianco e già gli dai un malus e poi magari riuscire a cerchiarlo alle spalle e lo distrugge e gli dai più malus ancora. I generali danno un bonus. I generali non hanno una vera e propria carta truppa, ma sono un token e quando li affidate a un'unità o negli intorni, danno bonus a tutte le truppe. È molto semplice. In conclusione, questo Onus Pack è un gioco dove io onestamente ci stavo girando intorno già da un po' di tempo. Una partita dura e media, una mezz'oretta e la scatola dà il gioco per 12 anni in su. Ora, l'età ci può stare, però secondo me non è un gioco da tutti, ma non per niente. I disegni dentro sono anche, non sono truci cattivi, sono disegni molto fomettosi, belli, però fomettosi ci stanno. Lo rendono un pochino più bonario, per quanto si parla di guerra e di tutte le cose brutte che la guerra porta in tutte le epoche. però è un gioco che ce n'ha un po' di regolini, quindi non tantissime, però ci vuole un pochino per entrare nell'ottica. Ma dall'altra parte, a me ultimamente, come Heroes of Norma di citato precedentemente, iniziano a piacere molto i giochi dove le truppe sono rappresentate da delle carte, ma non per il fatto c'è, preferisco ovviamente giocare con delle miniature di 32-28 mm, è più bello il campo, non ci piove. Però se è rappresentato bene, in questo caso su queste carte sono disegnati bene e rappresentano realmente delle truppe come se tu le vedessi dall'alto a volo d'aquila all'Assassin Creed, quindi ci sta veramente, cioè rende bene l'idea. Poi anche il game mat, il tavolo, ci potete anche mettere, perché no, stampandoli degli elementi in 3D, scenici, magari delle case, un tempio caduto, una colonna greca, tutto quello che volete. E a livello di profondità di gioco è veramente... io la butto lì. È più profondo questo, secondo me, di tanti altri wargame che ci sono ora sul mercato con miniature in 3D e tutto, perché qui addirittura oltre alle truppe, oltre alle formazioni, l'acceppiamento, il fronte, tutto, avete anche la bellezza delle carte, quindi gli imprevisti, gli eventi. Magari che ne sai, durante una carica a quell'altri, boh, non lo so, finiscono in un terreno accidentato, quindi la cavalleria ha un malus e era il momento giusto che aspettavano i lancieri per infilzarli con le sarisse. quindi comunque è anche bello vedere questa cosa che ti va a rovinare completamente la tattica quando eri sicuro di schiacciare il nemico. Non hai mai perso, fino a che le carte giuste in mano la battaglia continua, quindi il gioco è veramente, veramente, veramente geniale. Consigliatissimo a tutti? No. Per me non è un gioco per tutti, o meglio, è un gioco da far provare a tutti, però è un gioco che difficilmente piacerà a tutti. questo è un gioco per i fanatici dei war game dell'epoca storica, classica, ellenica, vecchio, vecchio impero romano, ve l'ho detto, Alessandro Magli e quant'altro, tra l'altro c'è un manuale, ci sono tutte le guerre puniche, tutte le battaglie di Spartaco, avete visto il film di 300, volete rifare la battaglia delle Termopili? C'è nel mezzo con le stesse truppe, gli stessi nemici, gli elefanti, ci sono la bellezza di tipo 500 carte, 500 carte, ogni carta ha una truppa, cioè, veramente il mondo è in più c'è la modalità Open, se volete fare dei tornei, per ogni carta al suo costo, per crearvi l'esercito come volete, con i punti che avete scelto a tavolino e fare una battaglia come quindi c'è tutto qui dentro, avete 20.000 ambientazioni, tutto il periodo classico ellenico, tutto qui dentro, da portarvi dietro e giocare, per me è un gioco consigliatissimo, non vorrei dire una cavolata su Board Game Geek preso 8.6 o 8.7, cioè, un voto pazzesco, non l'hanno preso altri titoli molto più blasonati, quindi consigliato di brutto, è veramente uno spettacolo. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sua impressione, dalla Gioco Libreria Semola, il nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito di Gioco Libreria Semola e digitate Onus, lo trovate in lista, però purtroppo è finito, oppure proprio nel catalogo non c'è, mandate una mail, un messaggio privato al supporto tramite il sito della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, vedete, arrivo dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola ve lo ordina, se magari ha finito le scorte in magazzino, o proprio se non ce l'ha, ve lo ordina fuori catalogo, quindi è un servizio che vi assicuro, non dico non lo fa nessuno, ma veramente pochi e rari, perché Onus, io sono convinto che non ce l'abbia nel catalogo, lo ordinate, lo ordina alla Dracodias e ve lo fa arrivare a casa e usate sempre il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro corriere gratuito in 48 ore in tutta Europa, quindi consegna anche fuori dall'Italia e isole comprese. Quindi, Gioco Libreria Semola è sempre un negozio della Madonna, un servizio impeccabile e veramente ragazzi, ordinate anche prodotti che non vedete in lista, scrivetevi e usate il codice discount, così non solo ve li ordina ma anche scontati. E ringrazio ancora una volta Dracodias, ragazzi il gioco è uno spettacolo, però dovete essere anche un po' appassionati di quest'epoca, ecco, fondamentalmente sì. Ciao a tutti, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate e ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!